Welcome to the world of Papamim! Extra virgin olive oil! Oggi, today, we're here with Signora Filippa! La mia, la mia, la mia! Spissi Fritti! Ecco, Spissi Fritti si chiama, is the name of her little restaurant here in Messina, and today she's gonna show us how to make... E che facciamo oggi per mangiare, Signora Filippa? Adesso facciamo un bel piatto locale che è il nero di seppia. We're gonna do the nero di seppia, it's a local day. Ok, così, Signora Filippa! La prima cosa che facciamo è una bella padella. Una bella padella, facciamo allora, dai! Ci avviciniamo al fuoco! Ci avviciniamo qua al fuoco! Ecco, ora! Seconde parte! E prendere la seppia! We're gonna take the squeeze! io l'ho già lavata per questione di tempo I just already clean it I washed it e la metto insieme uuuuuh wow all'olio a non farla bruciare we have to make sure it does not burn un pochino di pepe e 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 un pochino di pepe io la faccio da tantissimi anni I've been making this recipe for a long time diciamo che qui nella nostra contrata è una ricetta quasi abitudinaria ma qui dove viviamo è la ricetta di pepe che fanno le persone anziane comunque io l'ho imparato da mia nonna e io l'ho imparato da mia nonna now that you see that it's starting to cook it's just becoming rose it's changing color la sfumiamo con un pochino di vino we're gonna smoke it with a little bit of white vinegar facciamo asciugare un po' il vino we're gonna let the wine dry a little bit one minute just one minute a clock minute uuuh guai che c'è sta qua uuuh il pomodoro di papa beans lo dobbiamo aprire eh il pomodoro di papa beans che è un pomodoro dolcissimo buonissimo ed biologico this is a very good tomato sauce è denso buono non esce neanche dalla bottiglia it's nice and thick you can see how it takes a little time to get out of the bottle that tells you that it's good you know this is a little sack with the ink from the squid contenuto dentro la seppia that is inside the squid ed è un po' difficile toglierlo and it's a little bit hard to remove it mhm perché facilmente si rompe because you can easily break it in realtà in reality la funzione di questo nero the function of this black ink non è la di finire nel sugo is not to end in your food ma la seppia quando viene attaccata because when the squid is attacked manda questo nero inchiostro lo vanno spaventare si nemmico send this ink and it makes and it scares the enemy eco and then we learn that when you put that little ink in the tomato sauce oo it makes a good so here she's squeezing it out carefully oo look at that look how it's inking mmmm wow that is delicious now she's removing the garlic that way when you're eating you know you don't uh you don't taste that wow l'importante non mi stanco di dirlo and i'm not gonna get tired of saying sono i prodotti primari is the primary products il pesce fresco fresh fish l'olio e il pono d'oro good tomato sauce e con i prodotti and with the products di papa of papa beans stiamo sicuri we are sure of it con la pasta viene meglio prendiamo gli spaghetti mmm mettiamo gli spaghetti al dente al dente e lo mischiamo e lo mischiamo wow tutta lucentezza dell'olio you can see the oil how it's shining wow look at that wow i wish you were here oh ci dobbiamo mettere un po' prezzemolo eh parsley parsley e siamo pronti and we're ready to eat the only thing i'm missing is the fork è buonissima wow wow oh ma è proprio it's just so good è è che è è